Io a volte, pure se sto dormo, pure se sto sul divano, mi vengono delle fitte e è aperto, che può essere? Ho detto prima, allora, le fitte come dolore sono, probabilmente, mi piace un po' di fresco, e quindi c'è questi pastigli, che sono dei dolori, fitte e sostanziali. Allora, le fitte non sono dolore, ma sono delle sensazioni strane, che si sentono dentro, che potrebbero essere un po' di piccola ecostrasistore, cioè il cuore, ma non è il mare. Boom, 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 boom. Ma che volta succede questo? Boom, 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 boom. No, questo boom è un ecstrasistore, che ragazze n'abb sono molto preparato, ma ne Stani invece o sono quasiiloni per la vita di solo, ma per le persone come prima. Invece bisogna essere controllati, un ecstrasistore, sei un quadro schelico o se vuoi mandarci World Blue Book.